terremoto in grecia scossa proprio oggi di 5.3 ad atene la capitale panico fuggi fuggi generale da parte della gente in strada e addirittura un blackout erano da poco passate le 13 in italia e tutta atene l'area ittica hanno percepito questo terremoto durato 15 secondi circa calcolato di 5.1 di magnitudo della scala ritter dopo una prima stima di 5.3 segnalata la luce geologica di che centro sarebbe a 23 chilometri a nord ovest della capitale presso magola a 12 chilometri di profondità considerata superficiale è stato sentito con particolare forza soprattutto in alcune zone della capitale greca ossia notizie di feriti in maniera grave ma comunque la paura è ovviamente palpabile si è percepita in maniera piuttosto nitida alcuni edifici sono trollati da come si legge sul web sarebbero edifici molto vecchi o più patiscenti il terremoto è stato sentito anche dalla tv pubblica chiamata earth e rt che ha mostrato in diretta il tremore nello studio della trasmissione proprio in quel momento in onda grazie a tutti il video termina qua iscrivetevi commentare al prossimo video da andro narratore italiano